Ciao a tutti, il suo silenzio deve darti tutte le risposte che cerchi. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, ci sono delle persone che proiettano, cioè quando una persona sparisce dalla loro vita e sta in silenzio, loro attendono una risposta, talvolta inseguono, talvolta vanno a ricercare le motivazioni. Talvolta non decifrano questo silenzio, invece devi imparare a decifrarlo. Il silenzio significa che non gli interessi, che in questo momento non gli interessi. Comunque sia la situazione, che stia facendo no contact, che stia facendo qualunque cosa, non gli interessi. E allora non c'è niente da proiettare, le risposte sono tutte lì. Quindi è inutile che insegui, è inutile che inizi a dedicare energie mentali. C'è solo una cosa da fare, dimenticarsene, guardare oltre e pensare ad altro. Poi se, eventualmente, questa persona ritornerà, problemi da gestire, ma quando uno sparisce per qualche motivo, non puoi far altro che aspettare, fare silenzio a tua volta, ma vivendoti la tua vita in modo pieno, vivendoti delle emozioni, perché l'errore più grave che si può fare è quello di non viversi emozioni. Se non ti dai emozioni, non hai possibilità di superare nessuna situazione. Entrerai in situazioni sempre più negative, situazioni che diventeranno estremamente pesanti. Quindi l'unica cosa che tu veramente puoi fare è quello di darti delle emozioni, imparare a darti delle emozioni, imparare a diverti le tue tensioni emozionali, e in questo modo riuscirai a superare ogni situazione negativa, perché la tua parte emotiva non si aggancerà più a questa situazione, anzi dopo un po' praticamente avverrà magicamente un distacco. Quindi tieni presente questo fatto, è un qualcosa di fondamentale. L'errore più grave è che cercare di interpretare, è colpa mia, prescriversi dei sintomi, prescriversi delle situazioni negative. Questo devi assolutamente evitare di farlo, perché le risposte stanno nel silenzio stesso, cioè non hai potenziale, devi prendere atto della realtà. Se non prendi atto della realtà, non esci più fuori, evidentemente non escerai più fuori. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!